salve ragazze buongiorno buonasera secondo di quanto aprite il video eccoci qua voglio fare questo interattivo semibreve ad un'unica variante che è il seguente che cosa quale novità ci sarà a settembre quindi cosa succederà cosa ci succederà in questo mese di settembre a tutti coloro che insomma seguiranno questo interattivo e quindi si collegheranno con questa energia allora andiamo subito a vedere ho scelto per voi i tarocchi classici e abbiamo le carte dei messaggi magici delle fate e poi ho preso gli oracoli di elen ok allora intanto andiamo subito a vedere qual è la vostra energia al momento di questa domanda quindi vediamo voi che energia avete in questo momento e quindi insomma con queste carte andremo a vedere un po come ve la state passando no cosa vi sta succedendo in questo momento in che punto della vostra vita siete arrivate allora andiamo a vedere subito con gli oracoli di elen come ve la state passando in questo momento che cosa state vivendo in questo momento qui abbiamo stress preoccupazione vedete la carta per un rapporto di coppia vissuto con gelosia e con disperazione quindi qua ci avete state vivendo una situazione di questo genere ok care vediamo un po avete anche nostalgia del passato quindi qua state vivendo questo stress e questa preoccupazione per una persona che evidentemente del vostro passato con cui magari avete anche chiuso avete fatto per questa persona vedete degli sforzi eccessivi però senza ottenere il giusto risultato come dire sforzo eccessivo per qualcuno che non apprezza ciò che voi fate ciò che noi facciamo qua è una situazione completamente bloccata vedete qua c'è il senso di arresto dice quindi siete un po' infelici avete un po' questa tristezza insomma ci sono questi problemi vari dovuti a questa situazione ok però vedete qua voi siete consapevoli con questa carta di aver vissuto una relazione comunque vedete impegnativa e a volte anche complessa quindi questa è la situazione che voi state vivendo in questo momento che facciamo la domanda a fondo mazza abbiamo devozione fedeltà e concretezza vedete voi siete una persona così siete una persona che che volete nella vostra vita questo una fedeltà una concretezza e soprattutto una persona devota che pensa e si appunto concentri solo su di voi quindi questo è la vostra situazione al momento andiamo a vedere adesso che cosa che quale novità ci sarà a settembre ci sarà a settembre per voi per voi tutte che state vedendo questo interattivo allora quale novità ci sarà a settembre per tutti coloro che stanno seguendo questo interattivo andiamo a vedere allora vediamo quale novità ci sarà qui intanto abbiamo un 10 di coppe quindi qua la novità principale vedete il 10 di coppe qua la novità principale sarà che voi avrete presto un riconoscimento un qualcosa un'unione ecco si parla di un'unione vediamo ancora eh non voglio essere precipitosa ragazze qua c'è la torre quindi qua cosa succederà a settembre sarete riconosciuti da questa situazione di esilio cioè questa persona che in qualche modo vi ha creato delle delusioni delle infelicità vedete eh insomma una persona anche eh molto orgogliosa eh molto piena di sé vedete qua venite fuori come la regina di bastoni quindi stiamo parlando di un segno di fuoco sagittario leone a riete o portarne dell'ascendente ma se non siete di questo segno non significa che non parliamo di voi perché la regina di bastoni vedete com'è bella in queste carte è una regina amabile fidata passionale una regina matura comprensiva che dà amicizia che è piena di onore e soprattutto un'amica ehm per per coloro che hanno a che fare con lei comunque è una donna anche una maghetta potrebbe essere che ehm sicuramente siete voi questo rappresenta voi quindi che cosa vi succederà a settembre qua ci sarà una sorta di riconoscimento del vostro valore questa persona che vi ha fatto soffrire riconoscerà il vostro valore e poi potrebbe anche esserci un rapporto carnale una sessualità magnetica un'attrazione forte e qua vi lega sicuramente a questa persona ci potrebbe essere anche degli incontri sessuali con questa persona di cui parliamo però vedete qua dovete stare attente perché con il due eh di spade che viene fuori ci parla comunque ancora di eh conflitto eh di amore di odio di antagonismo cioè quindi voi dovete gestire bene questa situazione perché potrebbe avere una sorta di ehm dualismo ci potrebbe essere del conflitto eh quindi dovete ehm vedere bene come la situazione come gestirla siete voi che la gestite perché centrale la regina di bastoni quindi non dovete farvi eh comunque diciamo che questa persona potrebbe anche avere degli aspetti da narcisista perché abbiamo la torre abbiamo il diavolo però insomma non è detto eh magari è soltanto una persona un po' orgogliosa un po' saccente pena di sé l'orgoglio è tanto eh l'orgoglio è tanto vediamo ancora cosa sta per accadermi a settembre guardate qua con il cavaliere di denari vedete il cavaliere di denari qua ci sarà comunque per voi un uomo ehm ambizioso un giocatore una persona molto sicura di sé potrebbe far parte anche dei segni del capricorno segni di terra che vi porterà vedete più con allora questo verrà intanto con una sorta di seduttore magari all'inizio eh vi farà capire che vuole da voi amicizia ma in realtà eh vuole riprendere quest'amore vuole notizie vuole il buon risultato e buona per gli amori del passato quindi c'è la ripresa di un amore e questa persona all'inizio vi farà capire così che vuole la seduzione vuole la l'amicizia ma in realtà vi porterà una proposta più concreta ma più in là vuole prima essere sicuro perché il cavaliere di denari se non è sicuro a cento per cento non si eh impegna ma l'impegno ci sarà perché qua c'è un papa quindi questa persona vedete finalmente quello che non vi ha dato in passato ve lo darà sicuramente eh da questo mese di settembre sembrerebbe così sarà ispirato vedete con pazienza ci sarà quest'unione solida ma ce lo dice anche il dieci di coppe quindi vediamo ancora ovviamente voi dovete stare attente con la luna dovete sempre fare attenzione perché comunque è vero voi avete degli impianti della nostalgia per questa persona però questa persona perché in passato voi non è che vi fidate tanto ecco questa carta significa questo voi siete mal fidate perché dice mi ha ingannato tante volte ha sempre avuto questa incostanza nei miei riguardi quindi avete paura di lasciarmi andare però vediamo un po la carta successiva ecco qua mamma mia ragazze me la sono proprio tirata la carta della paura qui abbiamo il 5 di coppe quindi dicevo questa è proprio la carta della paura paura quindi voi siete prudenti siete prudenti volete siete prudenti in amore perché volete evitare inganni perché evidentemente questa persona in passato ve li ha dati questi inganni vediamo prendiamo altre due carte però vedete qua viene la carta dell'unione quindi qua abbiamo un'unione una coppia una società qualcosa che si unisce perché c'è stato rimpianto ci sono stati dubbi incertezze per il futuro quindi adesso si ha questa voglia vedete e con questa carta che ci parla di realizzazione di stabilità di regali di sicurezza economica vedete abbiamo il 4 di denari che ci parla tra le altre cose anche di questo sicuramente qua ci sarà una sorta di ripresa su una situazione del passato vedete a fondo mazzo abbiamo le stelle quindi questa carta ci garantisce la speranza ci dà la speranza che potrebbe anche succedere qualcosa di quello che voi speravate forse da tempo qua si parla questa carta ci parla anche di sentimenti puri sereni e di una sorta di dolcezza di beneficio dello spirito quindi qua la speranza è sempre l'ultima a morire vi dice questa carta adesso con le carte dei messaggi magici delle fate andiamo a vedere ancora cosa vi succederà a settembre che altro vi succederà a settembre quindi andiamo a vedere andiamo anche qui delle carte qua ci sarà anche nel campo lavorativo un nuovo lavoro vedete qua dice nuova carriera questa carta vi invita a il tuo lavoro sta prendendo una direzione positiva e di successo quindi tra le altre cose vi succederà anche questo vedete qua viene la carta del figlio quindi qua potrebbe essere questa carta che vi dice fate più attenzione a un figlio che magari non lo so sta in un periodo che va più protetto magari nel tratto dell'adolescenza oppure magari che ne so ha bisogno di più amore di più affetto quindi dedicatevi anche molto questo può significare anche se non avete un figlio alla famiglia a qualcuno che vi è caro che ha bisogno di voi poi vedete qua con la carta affermazioni questa carta vi invita ad usare di più le affermazioni positive per inalzare i vostri pensieri e le vostre energie perché voi se volete attrarre ciò che desiderate dovete affermarlo dovete essere sicuri di quello che volete vediamo ancora un'altra carta poi vi succederà anche che potete fare una breve vacanza perché comunque viene la carta della vacanza e anzi vi dice che la risposta che stai cercando può presentarsi durante una vacanza un ritiro un viaggio quindi magari questa cosa che vi succederà a settembre che noi abbiamo visto a livello sentimentale o anche a livello di carriera può succedervi durante una vacanza o appunto un weekend o qualcosa del genere prendiamo l'ultima guardate e poi vi dice che voi in questo mese avrete sicuramente una vostra guarigione emotiva perché vedete questa carta ci dice proprio quando il tuo cuore guarirà dall'antico dolore emotivo riceverai nuova benedizione e amore quindi qua ragazze io vedo veramente qua fondo mazzo che ve lo dico a fare hai potere quindi due fondo mazzi veramente stupendi la speranza alle stelle hai potere quindi usa la tua capacità del tuo potere per superare questo momento che magari ecco con questa situazione regressa avete avuto nel passato recente e quindi puoi farcela qua vi dice questa speranza questa speranza si realizzerà perché voi avete il potere quindi vi dice hai potere potete sperare in questa cosa perché potete farcela ragazze e ragazzi questo è quello che vi succederà a settembre ovviamente se vi è piaciuto se è sempre un interattivo lo sapete prendetelo con cautela se vi è piaciuto l'interattivo mettetemi un like per gratificare appunto la stesa e soprattutto se non siete iscritti iscrivetevi al canale attivate la campanella fate crescere il canale cosicché io possa continuare sempre a rallegrarvi sempre se vi fa piacere con i miei interattivi io vi ringrazio vi do appuntamento ai miei prossimi interattivi un bacione enorme dalla vostra Zahia ciao